Mi ricordo che quando c'erano i bacchi da sette andavano sempre a caviglione a prendere i semi e poi li distribuiva a Vigo sempre nella casa della Canonica. C'era una mia zia che era quella che andava a prendere e poi divideva le cose. Si chiamava Caterina Ecker che andava sempre in questa stanza della Canonica doveva scaldare perché venissero voi e poi davano i semi a chi li voleva perché era l'introito di allora. Sì insomma erano quelli che andavano e mi ha dato quelli non buoni insomma ringraziavano e anche si dispiacevano. Quello io non è che me lo ricorda, me lo ricordo sì perché mi ricordo che anche quando lei dormiva lì perché sono andata a dormire anche a fare compagnia diciamo quando ero bambina